tutti i giovedì alle 22 e 30 sul rete 8 terza stagione di in cronaca racconto di storie di uomini e donne della nostra regione e da quest'anno anche un viaggio periodico nella cronaca del passato in cronaca tutti i giovedì alle 22 e 30 sul rete 8 per le vostre segnalazioni in cronaca chiocciolarete8.it